Elia Fongaro è diventato famoso per alcune campagne di moda e per aver fatto il velino a Strescia la Notizia nel 2013 insieme a Pierpaolo Pretelli. Dopo aver conseguito il diploma in ragioneria lascia la sua città e si trasferisce a Milano. Qui si iscrive alla Facoltà di Scienze Politiche e intanto inizia a lavorare come modello posando per diversi brand. Vorrebbe lavorare nel campo editoriale, magari come giornalista, ma ha ancora qualche dubbio. Intanto per mantenersi agli studi spila come modello per diverse case di moda. Durante gli anni del liceo ha fatto il barista e teneva i conti in una piccola azienda del suo paese che produce macchinette del caffè. I suoi sport preferiti sono tennis, nuoto e calcio. Tifa Inter e il suo calciatore preferito è Avier Zanetti. Gli piacciono le canzoni di Antonello Venditti. Nel 2013 Etta ripartecipato ai casting di Strescia la Notizia per un motivo ben preciso. Ho mandato una mail e mi hanno chiamato subito per farmi fare un provino. Aveva raccontato il giovane, in realtà ho accettato di venire al casting più che altro per vedere da vicino il gabino. La bellezza di Elia è indiscutibile, alto, biondo, occhi chiari.